Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube per un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari. Prima di partire, come di consueto, con il calendario giornaliero, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e di mettere tanti like ai miei video, perché in questo modo riuscite anche ad aiutarmi, diciamo, a far crescere il canale. Soprattutto il video di ieri, che è stato demonetizzato, ma ero consapevole perché avevo pubblicato la canzone di una ragazza iraniana a cui andranno i proventi, diciamo, della monetizzazione del video di ieri, vi chiedo quindi comunque di cliccare molti like anche su quel video di ieri, perché è per una giusta causa, quindi mi raccomando. Ripeto, iscrivetevi al canale. Nel frattempo partiamo subito con quello che è il calendario economico di oggi, tra poco parlerà Powell e poi ci sarà anche il discorso della Lagarde e quindi contemporaneamente si faranno due chiacchiere, non tra di loro, parlerà ognuno per il proprio conto in differenti situazioni, in differenti platee. Nel pomeriggio alle 14.30 sarà interessante eseguire i principali ordinativi di beni durevoli mensili sul fronte americano, ovviamente, e più avanti alle 16 ci sarà il rapporto sulla fiducia dei consumatori. Per il resto, diciamo, non c'è molto altro per quanto riguarda la giornata odierna. La giornata odierna che comunque è iniziata abbastanza bene, tra l'altro, ecco, un dato interessante da seguire oggi saranno le vendite delle nuove abitazioni. Perché? Perché il mercato immobiliare è quello che in teoria dovrebbe cominciare a scontare, anzi, ha già cominciato a scontare, diciamo, il rialzo dei tassi, quindi una certa crisi. Ma è quello che dovrebbe soffrirne, diciamo, un po' più a lungo, sul lungo termine, quindi staremo a vedere quello che succederà. Detto questo, dicevo, andiamo subito a vedere quello che sta succedendo sul grafico, perché stamattina i mercati americani, soprattutto gli indici americani, almeno i future, si sono svegliati di buon umore. Svegliati di buon umore, tanto che il Nasdaq segna un più 1,43%, l'SP500 segna più 1,23% e tutto il resto dei mercati europei sono abbastanza positivi, col Fuzimib che oggi è andato un po' in altalena, partendo molto bene, dopo aver fatto ieri comunque una discreta prestazione, poi tornando addirittura in negativo di meno 0,70% e poi adesso recuperare un pochino. Come mai questo movimento su Fuzimib? Ovviamente c'è molta attesa per quanto riguarda la questione politica, quindi la costruzione della nuova squadra di governo e quelli che saranno poi i piani ovviamente per il programma economico, quindi ci sarà davvero da attendere con estremo interesse questi eventi e quindi anche i mercati guardano con estremo interesse. Per il momento però diciamo che tutto segna un bel segno verde, anche i mercati asiatici questa notte sono andati in territorio positivo. Per quanto riguarda invece puramente l'analisi techia, riprendiamo un po' quello che dicevamo ieri, dove il Nasdaq era andato a costruirsi questo supporto di breve termine, ma era entrato anche dentro un testa e spalle estremamente pericoloso, per cui vi ricordate cosa vi avevo detto? Occhio agli oscillatori. Gli oscillatori, che comunque sono un indice interessante, anche se è un po' in ritardo, ci dicevano che eravamo arrivati in una zona di ipervenduto. Vedete i due oscillatori come sono molto bassi e il market ci stava dicendo che forse potremmo essere arrivati in un momento di rimbalzo. Allora, gli oscillatori ci dicono che ci poteva stare tutto un rimbalzo tecnico, un rimbalzo tecnico che ieri non si è verificato, ma che tutto sommato è stato abbastanza contenuto nella sua discesa e che oggi sembra invece concretizzarsi. Quindi, ripeto, non ci sono notizie particolari che possono dare adito a un respiro sui mercati. Tutt'altro, anzi, se andiamo a vedere anche il commitment of traders, diciamo, degli scommettitori, quelli che scommettono tanto al ribasso che al rialzo, vediamo che le posizioni short sono talmente tante, sono talmente alte, che toccano i livelli del 2008 addirittura, se non ricordo male dal grafico che ho guardato stamattina. Quindi significa che c'è ancora tanta pressione di vendita e tanto pessimismo. Quindi questo rimbalzo non ci deve trarre in inganno, è sicuramente un rimbalzo tecnico per il momento e quindi staremo un po' a vedere come il tutto verrà interpretato poi nel pomeriggio, quando i mercati americani effettivamente apriranno e daranno via alle contrattazioni. Per il resto, abbiamo visto che dal testa e spalle, misurando l'ampliezza di questo testa e spalle ribassista, per il Nasdaq davvero ci potremmo anche attendere una discesa che vada un bel po' in basso, proprio in piena zona orso, questo quadrato rettangolo rosso che abbiamo disegnato diversi mesi fa e che aspettavamo come uno spauracchio, ma quale poteva essere il target più plausibile per i mercati in discesa. Trend di fondo che rimane ovviamente in discesa, vedete qui l'orso ovviamente come ruggisce e aspetta la sua preda al varco e quindi il possibile target di arrivo, tra l'altro guardate, il possibile target di arrivo confermato anche da questo che era un movimento armonico che avevamo già disegnato, queste onde di Elliot che avevamo già disegnato e che in effetti erano anticipatari, vedete, del movimento che poi c'è stato. Alla fine l'analisi tecnica non ci aveva tratto in inganno, anzi, tutt'altro, forse aveva stata un pochino anticipataria rispetto al movimento, ma che comunque questo movimento qua della gamba di E alla fine si è verificata e si sta verificando. Quindi occhio ai movimenti, occhio a come vi muovete e vi ricordo che siamo ancora in una fase estremamente ribassista, estremamente pericolosa. Forex, Forex che è sull'ottovolante da ieri con la sterlina che è andata a picco in qualche modo e sta in qualche modo anche adesso cercando un po' di riguadagnare terreno ma vediamo un po' come sta andando. L'euro-dollaro che recupera qualcosina sul dollaro, il dollaro è oggi in leggera flessione ma il dollaro ormai viaggia a livelli orbitali enormi, in leggera flessione anche il rendimento dei bond decennali, oggi il rosso, meno 2,42%, ma siamo davvero molto molto presto, ancora dovremo vedere come apriranno i mercati americani. Euro-GBP torna sotto 0,90, 0,89 dopo lo spike di ieri che era arrivato a 0,92, davvero un livello di prezzo interessantissimo e molto pericoloso per quello che è l'economia anche inglese perché, ripeto, siamo di fatto entrati in recessione anche loro, visto l'andamento dell'inflazione, dei prezzi e quant'altro. Andiamo a vedere un po' di materie prime, materie prime che tornano in qualche modo a farsi vedere, qui siamo sul gas naturale, il gas naturale ieri è andato a sfiorare la media a 200 periodi per la seconda volta, qui vedete, l'ha usata un po' come punto di rimbalza, poi è tornato su, adesso siamo a 7,24, c'è stato un movimento notturno abbastanza interessante, adesso il nat gas americano è abbastanza fermo, mentre il gas europeo, andiamo a vederlo, è a 173 euro megawattora, a meno 6,29%, anche qui c'è un pochino di rilassamento del prezzo, perché si cerca di comunque di guardare con ottimismo diciamo a quello che possono essere gli eventi anche sul fronte russo, per cui su quello che possono essere gli eventuali sviluppi della guerra. Adesso pare che ci sia una certa predisposizione da parte di Putin a voler aprire dei colloqui, ma ripeto, ormai siamo stati abituati a cambi di pareri, a cambi di decisioni repentini, per cui davvero è molto, la situazione è estremamente complessa e ancora molto molto complicata. Però materie prime che si sono girate in positivo, anche se ieri hanno scontato ancora, guardate qui, Bloomberg Commodity Index ha scontato un altro 1,96%, ieri, ma stamattina diciamo un po' tutte le materie prime si stanno girando un po' in positivo, anche qui oserei dire più che altro rimbalzi tecnici dopo tanto ipervenduto. Vedete, andiamo a guardare per esempio il petrolio, il petrolio torna a salire un pochino, anche qui però guardate molto molto ipervenduto, anche qui quindi è un rimbalzo tecnico, assolutamente, la situazione non cambia sulle materie prime, quindi anche il petrolio continua a soffrire enormemente, guardate qui che canale ribassista che ormai ha creato, in cui si è infilato e se dobbiamo andare a vedere un pochino anche che tipo di attesa potremmo avere per il petrolio, guardate che i 72, 71 dollari davvero non sono così lontani, vedete, adesso siamo qui, siamo su questi livelli qua, intorno ai 77, però davvero se dovessimo andare a vedere delle strutture di prezzo, di supporto interessante, io andrei a guardare davvero verso i 70, 72, addirittura anche i 65, insomma, per il petrolio, che per il momento e ve lo disegno qua, prendendo il proprio il trend di regressione, vi faccio vedere proprio, per il momento diciamo, siamo esattamente in un trend perfetto, guardate che discesa che ha innescato, tra l'altro, nella parte bassa del trend, quindi siamo ancora in una situazione estremamente ribassista, per chi scommette sul lungo termine. Andiamo oltre, andiamo a parlare un po' di granaglie, si recupera un pochino col grano, 8,70, anche qui, qui invece abbiamo invertito il trend, siamo tornati a un trend leggermente rialzista, anche se non di grande spessore, non di grande entità, ma di massimo, diciamo, stiamo tornando a salire un pochino, anche qui c'era stato una serie di attività abbastanza di compressione del prezzo, che adesso stanno tornando a essere un pochino più labili, però occhio, perché qui tecnicamente siamo andati a toccare la media già a 200 periodi qualche giorno fa e il prezzo è tornato indietro, adesso sta usando la media 21 come supporto, quindi anche qui dovremmo tenerne conto. Altre materie prima da tenere sotto controllo, l'uranio, perché no, anche l'uranio è una materia prima estremamente interessante da tenere sotto controllo, non viene da un grandissimo periodo, come potete vedere fa alti e bassi, ma con minimi sempre più bassi, quindi in un trend estremamente ribassista anche per l'uranio, però saremo a vedere che poi si parla anche di nuove centrali, di un ritorno a nucleare anche per l'Italia, quello come programma di governo, ma ripeto, questo ritorno a nucleare non è che si fa in sei mesi, richiede pianificazione, richiede infrastrutture, richiede investimenti e ci vorranno comunque degli anni. e comunque se dovesse tornare staremo a vedere un po' come succederà e quando succederà. Per il momento diciamo l'uranio segue un andamento abbastanza depresso, un po' come tutte, quasi un po' la maggior parte delle materie prime e l'abbiamo visto anche da questo grafico più generalizzato, vedete, questo è il grafico generale delle materie prime, vedete come ha cominciato a scendere, a comprimersi proprio da maggio, più o meno da aprile e dai fini di maggio a scendere, perché il dollaro ovviamente ha cominciato a mostrare più forze di quello che ci si attendeva e quando il dollaro è estremamente forte le materie prime tendono a cedere. Altri dati qua vediamo se ci sono dati interessanti, venerdì ci sarà un dato molto interessante perché uscirà l'indice dell'inflazione, il dato dell'inflazione europeo, quindi staremo a vedere un po' se l'inflazione europea si manterrà sul 9-10% o se scenderà un pochino o se aumenterà, questo non lo sappiamo e tornando invece a quanto riguarda le materie prime, l'oro, oro che oggi respira un pochino, 1,637 ma guardate un po' che bella discesona che ha fatto anche l'oro, oggi anche qui vedete oro, per l'oro c'è un rimbalzino tecnico da affrontare perché di altro non si può parlare in questo momento, guardate qua, questo è un altro trend estremamente forte di ribassi. Torniamo, quindi passiamo la parola alle criptovalute perché questa notte grandi movimenti sulle criptovalute, bitcoin si è svegliato a più 5% tornando sopra i 20k, bene un po' tutto il resto del comparto cripto che ovviamente si è legato al bitcoin in qualche modo con movimenti più o meno simili, ethereum più 3,70, binance più 3,11, Tezos, ADA, cardano, quindi parte l'una che ormai va bene non fa più testo e via tutte le altre altcoin, fakecoin, shitcoin, che volete, insomma, come le volete chiamare i vari progetti di minore entità, comunque tutti in maniera abbastanza positiva stanno reagendo. Qui su bitcoin non c'è molto da dire in generale, diciamo, abbiamo visto che sta seguendo in maniera molto sta cercando di aggrapparsi in tutti i modi alla resistenza diciamo creata intorno alle 20k. Qui vi rifaccio vedere per l'ennesima volta perché ormai è giusto che ne parliamo. Eccolo qua, lo mettiamo sul mensile, andiamo a prenderci in automatico, torniamo un po' di sporcizia che non ci serve, tipo questa. Eccola qua. Ok, vi rifaccio vedere sul mensile di cosa stiamo parlando. Sul mensile vedete questa è l'analisi ciclica di Bicconia e vedete che Bicconia si sta appoggiando a questa qui, a questo supporto vedete creato proprio il dicembre 2017 che è un supporto storico, è un'area storica tra i 19 e i 20k e su cui Bicconia deve assolutamente resistere perché scendere qui sotto signiferebbe creare un evento nuovo per l'era delle criptovalute per l'era di Bicconia da quando diciamo nel 2010 è cominciato ad essere tradata perché dopo ogni halving ha raggiunto un massimo poi c'è sempre stata una flessione ma ogni flessione non è mai stata più bassa del massimo post halving e quindi questa flessione che si sta avendo ora e che si sta avvicinando anzi si sta appoggiando già sul massimo post del secondo halving è già una novità perché ripeto la storia non è grandissima non è lunghissima ma questo comunque ci dice statisticamente che qui sotto non si deve bucare non si deve andare oppure non si dovrebbe andare e perché perché poi ci sarebbe da attendersi che da qui nei prossimi due mesi Bicconia possa ricominciare in qualche modo a ripartire a rimuoversi verso l'alto fino magari ad arrivare al prossimo halving che siamo intorno diciamo a me ad aprile marzo 2024 quindi tra un anno e mezzo più o meno diciamo non ai livelli toccati intorno ai 70k probabilmente no ma vedete come è già successo in altre volte più o meno a metà strada dei massimi toccati quindi molto probabilmente potremmo essere intorno ai 37 38 40k poi ripeto nessuno può dirlo con certezza però statisticamente quello che ci dice l'analisi ciclica è questo che l'area di ribasso più o meno è sempre la stessa a cavallo tra i diversi mesi quindi staremo davvero a vedere quello che succederà per il momento è tutto spero che questo video vi sia stato utile vi sia piaciuto fatemelo sapere se avete domande sull'analisi tecniche di qualche asset in particolare chiedetelo chiedetelo qua nel canale youtube oppure chiedetelo anche tramite telegram come volete trovate tutti i miei link qui sotto in descrizione del video come sempre io le analisi tecniche su richieste le faccio sempre molto volentieri sia che sia forex o asset azionario o quant'altro voi fate le vostre richieste e io vi rispondo ci vediamo ai prossimi aggiornamenti stay tuned e finger crossed ciao a tutti